Salve a tutti ragazzi, eccoci qui a giù con un nuovo video e come potete vedere siamo qui con la postazione quella degli ordini perché abbiamo qui due opzioni ragazzi, opzione 1 e opzione 2, adesso vi farò scegliere fra le due opzioni così al prossimo video andremo ad aprire una delle due cose, però prima ragazzi vi devo dire una cosa che potrebbe scandalizzare molti di voi, siete pronti o non siete pronti? Siete pronti? Allora, questo video durerà poco quindi devo svelarvi una cosa Oh mio Dio, cosa ho fatto? Eh, lo sono ragazzino, ho più capelli quindi se volete tutto il video intero di questa cosa, vedete qua sotto nei commenti però adesso a parte gli scherzi dobbiamo andare a vedere quale di questi due aprire quindi se volete questo qua scrivete hashtag Italia, se volete questo qua hashtag America quindi sono altri due ordini appena arrivati, ci sono robe molto pesanti quindi lasciate subito un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e commentate qua sotto appunto una di queste due questo video dura pochissimo perché dovevo solo farvi scegliere fra questi due quindi ci vediamo al prossimo video sperando che sia un bel video cioè già lo so che non sarà un bel video però spero che vi piaccia a voi like, subscribe, share e tutto quello che saluti dal cappello di Yoda e tutto ci vediamo al prossimo video